Buongiorno, sono Marco Miele e con i miei fratelli Giuseppe e Paolo gestiamo l'azienda di tradizione familiare fondata nel 1936 siamo la terza generazione. Siamo presenti ad Avellino come la sede principale, precisamente ad Atripalda e a Salerno siamo presenti da oltre 14 anni. Con i nostri 50 collaboratori serviamo il mercato sia del privato sia del professionista architetto ingegnere ma anche quello dell'impresa. Lavoriamo in due settori merceologici principali, il settore dell'estetica con parquet, con il listone Giordano che è un'azienda primaria, con un'azienda primaria come la Marazzi da oltre 60 anni, aziende importanti come la Jacuzzi per l'home wellness con vasche idromassaggio sia per l'interno ma anche per l'esterno quindi con mini piscine, aziende di arredo bagno Lupi, Gessi e tante altre aziende che proponiamo nei nostri showroom a Atripalda abbiamo uno showroom di oltre 3.000 metri quadrati, a Salerno abbiamo uno showroom a Via delle Risaie di oltre 1.500. Il settore importante per noi è quello dell'efficientamento energetico quindi tutto ciò che è impiantistica termo-idraulica, riscaldamento, condizionamento e trattamento dell'aria. Le aziende leader con cui lavoriamo sono la Mitsubishi, la Samsung, l'AreaO per gli impianti a pavimento e a soffitto e molte altre aziende che ci collaborano, settore importante sicuramente anche per quanto riguarda la qualità del vivere all'interno delle abitazioni e per il risparmio energetico. Abbiamo uno staff specializzato nel dare consulenza al privato e all'impresa. Il settore dell'impiantistica è un settore in evoluzione con grandi innovazioni tecnologiche che le aziende immettono sul mercato in maniera costante. Noi cerchiamo di tradurre queste innovazioni e rendere con proposte professionali fruibili al cliente all'interno delle proprie abitazioni. Oggi abbiamo tutto ciò, tutto gira intorno alle opportunità fiscali, ci sono gli eco bonus, il 65% che per noi è un'opportunità importante con lo sconto in fattura, abbiamo lo sconto per la ristrutturazione del 50% e il famoso 110% che rappresenta un'opportunità importante per chi voglia complessivamente efficientare la propria abitazione. Noi abbiamo investito in un ufficio professionale con dei professionisti in grado di rispondere alle esigenze e gestire la pratica al privato o all'impresa che vuole intervenire. Con il 65% applichiamo lo sconto in fattura. È un'opportunità che assolutamente oggi il mercato deve riuscire accogliere. Questa è una vasca idromassaggio di grandi dimensioni che la jacuzzi propone sia per interno sia per outdoor, quindi all'esterno può essere posizionata a incasso, a semi-incasso o completamente esterna. È dotata anche di cromoterapia, è una di quelle soluzioni che in questo periodo del lockdown e post lockdown sta dando maggiore soddisfazione in quanto serve per migliorare la qualità del vivere e le abitazioni dove in questo momento il privato sta investendo in maniera importante. Sì, oggi Miele Più è anche home wellness, quindi benessere all'interno delle abitazioni con la possibilità di realizzare delle vere e proprie spa. Qui abbiamo una sauna che può essere di varie dimensioni da poter collocare sia all'interno che all'esterno e con cromoterapia, docce emozionale e quant'altro per rendere la vita all'interno dell'abitazione molto simile a quella che si può vivere da un punto di vista esperenziale all'interno di una spa, di un grande albergo. Vestire le abitazioni oggi è sicuramente un'opportunità, ci sono molte soluzioni che senza grandissime spese possono rendere molto più piacevole e confortibile stare in casa. Diciamo che il commercio elettronico rappresenta una parte sempre crescente del nostro fatturato, quindi noi attraverso la logistica e l'e-commerce garantiamo consegne in tutta Italia e anche lì facciamo consulenza telefonica a chi si rivolge alla nostra struttura. Certo non rappresenta il fatturato maggiore ma sicuramente in grande crescita e con grandi opportunità di poterlo sviluppare in futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.